Torniamo alle celebrazioni per il giorno della memoria. In prefettura a Trieste sono state consegnate le medaglie d'onore agli eredi di tre corregionali deportati nei lager nazisti. Si tratta di Joe Battacartelli, nato a Tramonti di Sopra nel 1921, internato a Leopoli, Limberg e Witzendorf, deceduto nel 2013. Vittorio Mirkovic, nato a Trieste nel 1914, internato a Würzburg e deceduto nel 2003. Giovanni Sirocco, nato a Cervignano nel 1916, internato in Polonia e a D'Amburgo, è deceduto nel 1987. Tra le iniziative della memoria è stata deposta una corona sulla lapide in stazione ferroviaria che ricorda la partenza dei convogli dei deportati verso i campi di sterminio. Anche a Gorizia il prefetto Raffaele Ricciardi ha consegnato la medaglia d'onore ad Alessandra Romanese in memoria del padre Silvano, militare italiano internato.